Ciao a tutti, sono Francesco. Oggi vorrei parlare perché studi italiano e cosa ho fatto quest'estate in primo lungo. Vorrei parlare perché studio italiano perché vorrei essere un diplomatico di Taiwan in futuro. Per soddisfare questo sogno e aumentare la mia opportunità, vorrei studiare italiano. Quindi, vorrei parlare di cosa ho fatto in questa estate. In questa estate sono stato un volontario del Ministero dei lavori esteri per conoscere più cose di mio lavoro in futuro. Durante il mio servizio ho capito molte cose diplomatiche. Per esempio, ho capito che come per il suo attento e il governo estero per aiutare a Taiwan e come aumentando l'interesse di Taiwan all'estero. Inoltre, ho imparato la tecnica di chiacchierare con gli stranieri. Per esempio, con gli inglesi è necessario parlare della cosa normale come il tempo oggi. In conclusione, penso che è molto importante e significativo per il mio futuro e il mio lavoro attraverso questa opportunità. Grazie mille! Grazie mille!